Hello guys! Ciao a tutti ragazzi! In questo nuovo video eseguro un brano dello stile pop, pop italiano. Il brano è Controvento, della grandissima artista Risa. Il brano non ha una grande presenza ritmica, l'ho cercato un po' di sperimentare, aggiungendo anche delle piccole parti di Drum Machine, però questo lo scoprirete guardando il brano. Spero che questa mia interpretazione vi piaccia e che sia di vostro gradimento, e se fosse così aggiungete un like e anche un commento, giusto per avere qualche riscontro. Vi ricordo anche che per chi ancora non l'avesse fatto di iscrivervi sul mio canale YouTube, in modo tale da supportare il canale ma soprattutto essere sempre aggiornati su nuovi contenuti e nuovi video. Non mi rimane altro che augurarvi una buona visione, un buon ascolto e soprattutto ci si rivede al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!